Ciao amici di Tragadogames, buongiorno e buona domenica! Lo sapete, la domenica è l'appuntamento per i giri gratis della settimana che questa settimana sono stati davvero pochi. Si comincia con il ticket del giocatore standard del campionato turco 14 giocatori a 4 stelle, di 158 giocatori a 3 stelle, 303 a 2 stelle e 152 a 1 stella. Quindi fa solo così, fa solo collezione di figurina diciamo il giocatore standard della Turchia. Ma va bene, ci sta, ci sta. Quante stelle? 2. Oh, eccolo qui, sarà un vero campione. Eccolo qui, Dragus. Il famosissimo Dragus diventerà sicuramente il mio giocatore titolare, non c'è alcun dubbio. Va bene, va bene, va bene. Andiamo qui invece, scusate ho sbagliato tasto, giocatori della settimana sempre con l'evento turco, qui non ci sono più giri gratis per le leggende, poteva continuare con Ami a darlo, perché non darlo più? Un giro su 150, ecco, ti capita una volta nella vita, tipo con Snyder, tu due volte con la vita, con Iniesta, però. Allora, giocatore gratis, me l'avete massacrato questo Mbappé? Niente, non va bene, è scarso, boom, bam, boom. Però velocità e accelerazione ce l'ha, dribbling ce l'ha, finalizzazione ce l'ha. Io così scarso a me non sembra, dite che c'ha poco controllo, c'ha poco possesso stretto, però a me questo giocatore qua non dispiace affatto, soprattutto come Esa. Però dite, c'è meglio quello che c'hai, va bene. Qualcuno mi indica Gundogan come il top per il mio centrocampo a due, a me Cristiano Ronaldo non è che dispiaceva affatto, però non è che diventa il titolare, però con la finalizzazione a 90 non dispiace affatto. E poi c'era questo Lube Bacchio, velocità 98, accelerazione 95, dribbling 92, che potrebbe essere interessante. C'era anche questo Tamendi, con comportamento di offensiva e aggressività, niente male. Comunque mi avete un po' tolto la voglia di fargli tre giri in più, quindi faccio il mio giro gratis. Se pesco Tamendi, Lube Bacchio, Cristiano Ronaldo, Mbappeo, Gundogan, sono contento, quindi sono a metà, 5 giocatori sono contento, gli altri non mi sembra che mi convincevano affatto, infatti Carlson, sì, anche lui è abbastanza veloce, però, CLS, pur questo portiere non è male nei parametri, ma comunque un 92. La Port, no, la Port mi convince poco, onestamente, rispetto a Tamendi. Tamendi andrebbe a 96, 97, con quei contrasti, con quell'aggressività entrerebbe nelle rotazioni. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 1 dei 5, va bene. Speriamo di pescarne uno. Vediamo, anche se voi questo Mbappeo me l'avete proprio schifato, come se fosse la schifezza delle schifezze. Non è così. Comunque, andiamo. Cinque stelle. Oh, chi è? Gundogan! E lo proverò, lo proverò. Nella prossima fase di campionato lo proverò. Facciamo qualche confronto. Gundogan, eccolo qui. Versione mediana. Andiamo a fare qualche confronto con qualche altro giocatore che ho già. Allora, andiamo a vedere. Schema di gioco. Allora, questi. Meglio che stanno qui, perché posso andare a prenderli nelle riserve, quindi non c'è il boost, non c'è nulla. Allora, Gundogan. Allora, andiamo a filtrare per posizione giocatore, mediano e centrocampista. Fatto. Non mi fa fare i confronti diretti. Allora. No. Eh, non me lo fa fare. Allora li metto tutti e due in campo. Sia Lobotka, sia Gundogan. Eccoli, così sono tutti e due potenziati. 98-98. Andiamo a fare un confronto. Comportamento offensivo, meglio Gundogan. Controllo palla, meglio Gundogan. Dribli, meglio. Lobotka. Possesso stretto, meglio Lobotka. Passaggio alla sudera, meglio Gundogan. Passaggio alto, meglio Lobotka. Finalizzazione, meglio Gundogan. Colpo di testa, strano, Lobotka. Calcio da fermo, meglio Gundogan. Tiro a giro, meglio Gundogan. Molto più veloce e molta più accelerazione, anche Lobotka. Potenza di tiro, meglio Gundogan. Resistenza uguale. Comportamento offensivo, meglio Lobotka. Contrasto, meglio Lobotka. Aggressività, meglio Lobotka. Convolgimento difensivo, meglio Lobotka. E cioè, sì, cioè, è più offensivo. È più offensivo di Lobotka. Potrebbe essere interessante, sì, nel discorso di metterlo come centrocampista. Tanto se lo metto mediano non è che cambia nulla, eh. I parametri sono quelli. Modifiche in med, ma non è che cambiano i parametri. Eccoli. Rimangono gli stessi. Confrontiamolo anche con... 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 Xavier Alonso. Comportamento offensivo, meglio Gundogan. Controllo palla, meglio Gundogan. Dribbling, meglio Gundogan. Possesso stretto, meglio Gundogan. Passaggio alla sua terra, meglio Xavier Alonso. Passaggio alto, meglio Xavier Alonso. Finalizzazione, meglio Gundogan. Colpo di testo, non capisco perché. Meglio a Xavier Alonso. Calcio a fermo, meglio Xavier Alonso. Tiro a giro, meglio Xavier Alonso. Velocità, un po' più veloce Gundogan. Accelerazione, molto più veloce Gundogan. Potenza di tiro, meglio Xavier Alonso. Contatto fisico uguale. Comportamento offensivo, meglio Xavier Alonso. Contrasto, meglio Xavier Alonso. Insomma, è un mediano, secondo me, che non è tanto mediano. È molto offensivo. È comunque più offensivo. È un centrocampista, secondo me. Vabbè, comunque, me lo giocherò quando ci avrà una buona valutazione. Così, mediano, centrocampista, mi cambia poco. Però, ecco, devo un attimo trovare il mix giusto in questo piccolo centrocampo A2. Va bene, va bene. Comunque, non è male. Quando ci avrà una valutazione di A o di B, Gundogan si usa, assolutamente. Va bene, ragazzi. Buona domenica. Questa sera niente di football. Si va di Spider-Man, perché ho fermato il campionato. Tanto non posso più essere promosso. Mi prendo qualche giorno di pausa. Poi domani riprendo anche gli eventi che ci saranno domani. E quindi, stasera, facciamo Spider-Man. E se non l'avete visto il primo video, vedetelo. E vedetelo anche stasera. Buona domenica, ragazzi. Ciao. E fatemi sapere che avete pescato col giro gratis e se avete fatto anche qualche giro a pagamento. Ciao.